Bene a tutti ragazzi, da Samu, benvenuti qua su Constraxion Cicurator 3, su Xbox One Ragazzi, benvenuti in un nuovo mio canale Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi ancora Se non l'avete fatto, mettere un bel mi piace per supportare la serie Ragazzi, come sempre, condividere il video sui vostri social preferiti Ma, ragazzi, iniziamo col botto Iniziamo Che vorrei fare? Finalmente un appalto speciale Per chi è andato sulla mappa, non lo so Allora, facciamo così Facciamo così Parco macchine, no, lavori Appalti speciali Allora Questo, sgombra la strada verso l'agente industriale Newstay, questo qua ci porta Porta, lavora con la gru, porta i detriti fuori a cantina Trasporta il mezzo Perfetto, porta i detriti, trasporta il mezzo Accettiamo Questo qua ci dà, ci sblocca Funzione, richiesta Va bene Va bene, va bene Amen Lo faremo lo stesso Ok, c'è stato uno smottamento Bla 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 Nessun caso è rimasto il rappresentante Bla 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 Non possiamo lavorare Qualcuno occuparsene Bla 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 Mezzi pesanti per questo incarico Un movimento a terra Dovrei avere una palla gommata Un escavatore grande Perfetto Tutto questo L'aria di essere Bla 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 Ci vediamo al cantiere Perfetto Allora Mezzo di tipo gancio Minimo grado 2 Ah Minimo di grado 2 Allora Mi sa che dobbiamo Dobbiamo andare qui E noleggiare Eh sì Mi sa che dobbiamo Noleggiare questa gru qua Questa Mezza bestiona qua Che è carino Lo stesso Allora L'ho vista C'è C'è ragazzi C'è Eccola qua Minimo Però non mi dice Se è grado Che ne so Io grado 2 Perché quell'altra Mi pare che è bloccata Eh sì Buongiorno Vabbè Vediamo se questa qua È grado 2 Spero di sì Eh Opzioni Mamma mia Costa Anche affitto al minuto Vabbè Eh Gru mobile Vabbè Desideri Al cantiere Costo di zero Perfetto Sì Fatto Sì c'è Ok Vediamo un po' Il cantiere Cosa è successo Ragazzi Potrebbe essere successo Che Ecco C'è Pucca Aspiterina Che caspita è successo Mamma mia Che danno Eccoci arrivati Siamo Blah 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 È detto che c'era stato Nessun ferito Siamo fortemente Infortunati Blah 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 Ok Perfetto Mi sembra un piano Iniziamo Ok Vabbè Roccia roccia Perfetto Consegna Origine cantiere Ah Quelle due rocce là Ok va bene Allora mettiamoci in modalità Buggamento Accendiamo i panali Mezzo stabilizzato E adesso Mettiamoci Visuale Gancio Sì Che è questa Ci avviciniamo Più o meno Circa Così Chissà se dobbiamo Spostare anche La pala Sì La corriera Caspita Hanno distrutto Una corriera Che bello Cioè Mi dispiace Ma è bello Ok Vamos ragazzi Quante Dobbiamo prendere Due o tre Mica ho capito io Vabbè Comunque Io prendo Oh la mia Passo il simbolino Finalmente Bene Vai Aggancia Mi scusi Però Ok Ce la fa Tiralo su Perfetto Ce la fa Ce la fa Gli affammo Ragazzi Ok E una c'è Dovremmo scavare Anche un botto Un botto Di pietre Anche È sicuro Ok Però Vai 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 Avanti 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 Perfetto Presa Seconda Ho un po' di fari Ragazzi Illuminazione artificiale Ce l'ho Allora Uno Due E spero che poi La gru Non ci serva più Così fa anche rima Chissà che con la gru Questo qua Lo aggancia Penso di sì Perché Ok Vediamo se lo aggancia Uh Caspita Eh sì Quella aggancia Ok Questo Dobbiamo metterlo Un po' più qua Perfetto Au Tira su un po' Che deve andare Un po' più indietro Poco Au Poco ho detto Vabbè Dai Dai Mamma mia Mamma mia ragazzi Ok Quello pochetto Dai Giù qua Fatto Fatto Vabbè Due per roccia Ma Ah c'è ancora là Ok C'è ancora uno Caspiterina Caspiterina Vediamo Vediamo Se ce l'abbiamo fatta Come troppo in alto Rispetto a terra Che caspita Più due per terra Ma Come non posso sganciare Il carico Dai Ma Qua Ah beh E' vero Sì In alto Caspiterina E' vero E vabbè Ma non ci sta B più L Ruotiamo Cavolaccio Ce la fa andare giù Dai Eh che cavolo C'è sta roccia qua Che Si è preso Tutto lo spazio Vabbè Vediamo se qua ci sta Oh Perfetto E adesso E adesso Dobbiamo Ok Sgombrando la strada Abbiamo mezzi Più grandi Questa quantità Di termine Consiglio di usare Una motrice Con un semi Rimorchi Aperta Adatto Per la terra La cave di ghiaia No Non mi interessa Non mi interessa Ragazzi Facciamo così Allora Questa la rimpostiamo Ce la mettiamo In parte Dai che sblocchiamo La nuova zona Dai Dai Che sblocchiamo La nuova zona Questa la mettiamo Poi in parte Adesso portiamo Lo scavatore E il Il damper Vedete che ce la facci Basta Guardate Un attimino Devi fermare il mezzo Sì un attimo Allo scavatore E il damper Al cantiere Hola Fatto Visuale Conducente E adesso Ragazzi Aspettate che Devo accendere I fanali Perfetto Hola I fari Fanali Adesso ragazzi Si scava Come non ci fossero domani Ok Starò un pochetto Ma Ma nessun problema Vedete piano piano Oh caspiterina Non mi fa girare Vabbè Andiamo più indietro Ok Vediamo se mi fa girare Adesso che sono un po' più esterno Sì Ok Buttiamogli tutto dentro a lui Qua E noi continuiamo a scavare Scava Che testava Che testava Bennata dopo Bennata Ci riempiamo tutto Vedete Lì non stiamo tanto Tranquilli Non stiamo tantissimo Perfetto Ancora Un po' di bennate Ci siamo Dai Non è Non è Difficilissimo Dai Ci sta Ci sta Vabbè Vabbè Io adesso Questo pezzo Lo salto Perché ho già scavato Guardate qua Ho già scavato tantissimo E non lo so Dove Dove andare a prendere Altra terra Qua Non me ne lo so Io devo andare a prendere Qui Boh Perché ormai Ci siamo Dai Manca solo Quel pezzettino lì Ma Vabbè Dai Questo pezzo Lo saltiamo Dai Giusto per Il grosso L'ho fatto Ho fatto L'80% Del lavoro Dai Sì dai Facciamo così Così stiamo Prima Lavori Salta Tanto mi paga lo stesso Vedete Centomila Me ne sono presi Fase saltata Chi se ne frega Allora Vediamo un po' Che devo fare Adesso Ben fatto Ora spostiamo I primi Vickers Come dobbiamo mettere Passiamo Lasciarle Due auto Il bus Dove essere Trasportata Alla zona Industriale Nini Oster Viste Che da D'altra parte Blah Blah Lascialo Qui per ora Ok Va bene Facciamolo Che devo fa Area indicato Rotami del bus Ok Allora Quindi Ripristina Questo qua Andiamo nel Dumper Vendiamo la terra Conferma E Ripristina Anche te Adesso Andiamo qua Nella gru Vediamo un po' Che devo spostare Il bus Il bus Si Rotami del bus Perfetto Dai che la facciamo Mezzo stabilizzato La visuale va già bene Chissà Boh Dovrei farcela Eh Ok Oh 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 Aggancia Dai eh Ok Caspita Oh Quanto è grande Oh Facciamo così Mentre che ruotiamo La visuale Eh Dobbiamo ruotarlo Si Absolutely Dobbiamo ruotarlo B più L Eh Allora B più L Un momento Facciamo così Ok Perfetto B più L Ruotiamo di qua Che siamo più vicini Dovevo metterlo dritto adesso Eh Attenzione eh Ragazzi E intanto abbiamo già Quattrocento Quasi quattrocentomila Eh Vabbè Io li chiamo euro Ma sarebbero crediti Dai Non sarebbero Non sono I soldi Quelli là Ma vabbè Dai Sono crediti Comunque Vediamo un poco Dai eh Dai eh Eh Dai Ok Forse ci siamo eh Si Fatto E' sparito Bene Ma che devo pigliare Trasporta le Entrambe le auto Al concessionario Oh caspita E come caspita le metto su Entrambe le auto Eh Mi serve allora un camion Noleggiare un camion Con Con quella roba là Mi serve O ci stanno sul Chissà se ci stanno su No Sì No Sì Proviamo Vediamo se ci sta Proviamo ad andare qui Camion cassone aperto Proviamo a metterle Sopra questo Tiro giù le sponde Dovrebbero starci Teoria eh Eh no Non c'è sta Allora mi sa che devo Noleggiarli Dobbiamo andare qui Dove è la concessionario Questo Facciamo Entra Dobbiamo noleggiare Quindi il camion Con la gru Allora mi serve Questo Affitta Sì Sì Al cantiere E anche Questo qua Mi serve Dov'è La motrice Questa qua Questa normale Non c'è Eccolo qua Questo bestione Ragazzi Come su Affitto al minuto Sì Ok Va bene Fatto Ce l'abbiamo Ok Ce l'abbiamo Muy bien Allora Come si aggancia Qua Silver Devo avvicinarmi E quando diventa Blu Cioè verde Mi pare Sì no Verde Ecco Devo fare Accoppia Con la X Accoppia Perfetto Quindi andiamo Sul damper Spostiamoci Mettiamoci qua E anche lo scavatore Vabbè Lo scavatore Non serve Damper Lo sposto qui E Questo qua Lo mettiamo Ci mettiamo In parte Ah si Tiriamo sulle sponde Altrimenti Lui si arrabbia Vabbè che ce la farei Anche lì Eh Però Andiamo a Cesare Quel che è di Cesare No Allora Andiamo qua Sì ho capito Che devo fermare Mezzo Dai Vamos Tanto è già Accoppiato Perfetto Track driver Ragazzi Track driver Guardate qua Opla Andiamo sulla gru Questo è un track driver Ragazzi Adesso lui Teoria dovrebbe starci Non sfasciamo il camion Prima di Ok Oh Perfetto Ci sta Ottimo Andiamo a prendere l'altra Dai Andiamo a prendere l'altra Vamos Dovrei riuscirci Eh Questa gru È abbastanza Versativa Sì ma Verso di là Devo andare Ok Allunghiamo il braccio Perfetto Così siamo Ben allineati Vediamo su un po' Dovremmo Dovremmo riuscirci Dovremmo riuscirci Ben fatta Carichiamo anche questa E in teoria ci siamo Beh dovrei scaricarle Dopo anche Vero Vero è che devo scaricarle Quindi andiamo su Col braccio E scendiamo Stiamo pronti a scaricare Ok la corriera Non possiamo farcene niente Della corriera Ma Ed è questo Possiamo scaricarla Giù così Ok Ancora un po' Ancora un po' Perfetto Quasi quasi ragazzi Sta roba Sta roba buona qua Me la prendo io Non è male Questo camion qua Non costa neanche tanto Quindi 80.000 E 80.000 Quello Perfetto Fatto No Dobbiamo Riposizionato Cambio modalità Dobbiamo consegnarlo Al concessionario Sì un momento Dai Ok Andiamo qui Fissa il carico E andiamo al concessionario Sempre che Lì dobbiamo andare No mi pare Concessionario a picking Ok Sì va bene dai Punto di Concessionario a picking Ok Quindi andiamo qua Concessionario Perfetto Andiamo al concessionario Dobbiamo scaricare Queste auto Peckling Peckling Ok Dobbiamo scaricarle Lì Però ovviamente Ci servirà la gru Eh Ci servirà gru E certo Che non è qua E qui dobbiamo andare Dobbiamo andare Sul Qui Concessionario Perfetto Concessionario Vamos E scarichiamo veloci Allora Eccoci arrivati Ragazzi Premiamo No Prendiamo No Prendiamo Premi Sì No Sganciamo 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 il carico Torniamo sulla gru E una volta tornati sulla gru Vediamo un po' se riusciamo A agganciarla Perfetto Perfetto La seconda macchina La seconda macchina è presa Oh Vabbè Dai eh Ok Perfetto Basta E mo' Ok 17500 Completato Completato Siamo già 411000 Scolpisci il terreno Come mostrato Area Cantiere Vediamo un po' Ecco ma devo scolpirlo Fatemi vedere un po' Andiamo qua su questa Fatemi vedere Ah ok Devo tirar via Ok Fa No Questo no Il damper Mi serve Vabbè Facciamo che Eccolo qua No Prima lo scavatore Andiamo dritti Andiamo dritti Andiamo dritti Dobbiamo tirar via Di nuovo Tutta questa terra Spero di non stare Tanto come prima Ma Vediamo un po' Ok dritti così Vabbè Dai Devo buttare giù Quella specie di Quella oliva Quella roba lì Ok Vediamo un po' Oh Là Ma io scarico Anche già su questo Posso Abbastanza vicino No È un momento Eh Va bene Metto uno di qua E uno di là Dai Così riempio due In un colpo Sto prima Se me ne metto Due di uno di qua Uno di là Dovrei stare prima Fatemi parcheggiare Più vicino O accendete le luci Però Per favore Le lucine Per favore La lucina La 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 Allora Dai Anche te Te lo mettiamo qua Vamos Ok Forse è meglio È meglio che mi metto Retromarcia Ma non lo so Vediamo Se no mi parcheggio qua Ecco Dovrebbe andare abbastanza bene Qua Allora Luci E iniziamo Andiamoci sotto Ragazzi Eh che cavolo No 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 Bene 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 Ok Perfetto Vamos Fatemi mettere giù Questo qua E poi Chissà cosa dobbiamo fare Ancora Chi lo sa Secondo me Penso Basta Lo dobbiamo asfaltare Ma non penso Perché qua c'è solo terra Da tirare via Quindi non dovrebbe essere Un grosso problema Teoria eh Ok Ragazzi Fatto Uuuu Fatto ragazzi Abbiamo scavato E ci ha dato dei soldoni Anche Questa strada è stata Sgombrata Bla 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 Passa il mezzo Seguente Mezzo tipo Minimo grado 1 Ok Andiamo Riposizioniamo Quindi Questa La riposizioniamo qua Ripos Ah Spormento Spormento Momento Andiamo subito Su livelli Ragazzi No lavori Ah siamo L'ultimo Trasporto al mezzo Perfetto Profilo Abilità Movimento a terra Conferma Boom Così Allora Vi spiego ragazzi Come Affrontare Come aumentare I livelli Allora Prima vi conviene Aumentare Fino al massimo Il Praticamente Il denaro E l'esperienza Così vi da Più soldi E più esperienza Salite più velocemente Poi vi consiglio Di Sbloccare L'abilità De trasporto Così potete Consegnare le merci Direttamente Al cantiere Quindi saltare Noioso Overe già a bordo Le merci Le berci Stavo dicendo E poi Movimento terra Movimento terra Scavate più roba Quindi Quando usate Appunto Il damper Il camion Oppure Lo scavatore Potete scavare Più terra In un colpo solo Quindi Meglio così Allora Andiamo qui Vendiamo questa terra Qua Vedete Questo è grazie All'abilità Di trasporto Vedete Possiamo riempire Svuotare i mezzi Così Ovviamente Non possiamo riempirli Con la ghiaia Però Se Con il tipo Il cemento L'asfalto Possiamo farlo Là Fatto Dobbiamo andare Quindi qua Allora Questa la possiamo Vabbè Dobbiamo andare Al cantiere Andiamo Al cantiere Porta Seguite mezzo Carico Andiamo Al cantiere Vediamo Cosa Dobbiamo fare Vediamo un po' Allora Devo andare lì E poi che devo fare Ok ci sono Au Mentre ho capito io Mezzo di trasporto carico Minimo grado 4 Au E' questo che è Fatemi ben capire Mentre ho capito Io Anche devo andare Più avanti Ma mi sa Che devo andare Qua io Ma Mezzo di trasporto Carico Non ho Ben capito Andiamo su Quindi su Lavori Trasporto il mezzo Fatemi capire Eh Ho capito Mezzo di trasporto carico Acciaieri Ah Forse mi serve La Ok Forse ho capito La gru Ripristina Modalità E vai al cantiere Perfetto Perfetto Vediamo se Vediamo se voleva La gru No Manco la gru Vuole Che ne so io Ragazzi Che cosa vuole Ma che caspiterina vuole Non ho capito Non ho capito Questo è il Ah Forse vuole Ho capito Ho capito Cosa vuole Questo qua Scommettiamo Andiamo Andiamo nel concessionario Sicuramente vuole Questo qua Lui È Zona industriale No No Qua Dov'è Il concessionario È qui Che cesta Ah Questo è No Ero già lì Ok Perfetto Ho capito Ho capito Ragazzi Ci hanno già dato Un rimorchio Quindi Allora Prendiamoci il camion Andiamo più avanti Quindi sganciamo questo Lo sganciamo Siamo già nella zona nuova Allora X Ragazzi Sgancia Perfetto Ok Sganciato Adesso andiamo Al Concessionario Dobbiamo C'è già un Un coso C'è già una specie Di Rimorchio Eccolo qua Vedete Ce lo danno già Loro M'ho capito Ragazzi M'ho capito Vamos Ok Agganciato Agganciato Andiamo al cantiere Questo qua voleva Comunque ve lo danno loro Allora Ve lo danno loro Perfetto E adesso dovremo caricare La gru Con Sì No L'autobus Con Questo qua Perfetto Questo dobbiamo fare Ok Switchiamo Sulla gru O lo carica Lui Che devo fa Destinazione Completa La consegna Seguente Sì ma Non è mica Che devo Cioè Non c'è scritto Che devo caricare La gru C'è L'autobus Però Vabbè Noi Noi lo facciamo Noi la carichiamo Lo stesso Carichiamolo Lo stesso La Vediamo se Vediamo un po' Andiamo qua Fiscia il carico Andiamo Zona industriale Di Ah non l'ho sbloccata Vabbè Dobbiamo andare Dov'è la mappa Dobbiamo andare Acciaieria Ma non mi fa andare Va beh Seguiamo la strada Vediamo Facciamo Visuale del conducente Perfetto Fanali Accesi Hola Vamos Ragazzi Stiamo andando Nella zona nuova Stiamo andando Nella zona nuova Dobbiamo trovare L'acciaieria Dov'è Uh caspita Che botticella Dell'hug Che ha dato Che derappata Eh che è sta derappata Ragazzi Una piccola derappata Ma ci sta Dai Ok Dobbiamo andare Qui No Qui Forse qui Ando sto io Ah Uh hai voglia Devo andare Devo andare Devo andare Qui la prima sinistra Eh no Neanche Eh caspita Allora la prima La seconda sinistra E poi andiamo per di qua Dai Vabbè Più o meno ho capito Dai che forse ci siamo Dovremmo entrare di qua Perfetto Questa dovrebbe essere l'acciaieria Ok dobbiamo consegnare il carico Qui Allora fatemi mettere Tipo alla pari Così dopo con la gru è più facile Eh qua tutto track driver ragazzi Torna tutto Vediamo come sono messo No così Ma così Beh direi che va più che bene Ok diamo sulla gru Eh sì perché adesso dobbiamo Dobbiamo praticamente Scaricare lì Spero che dopo ci pagano Oh siamo arrivati Allora quindi facciamo Cambiamo modalità del mezzo Così Abbiamo della visuale interna No non me la fa vedere No Visuale gancio Sì così Perfetto Ok Non me la fa vedere Va bene Ah caspita Dobbiamo andare nel camion Sganciare Perfetto E adesso possiamo tornare sulla gru Perfetto Oh là Così Ok se tutto va bene Siamo in direzione giusta Perfetto Vamos Aggancia Oh Ho appena detto che eravamo in direzione giusta Dai Dai Allora Vediamo un po' finalmente Ragazzi siamo arrivati Qui Abbassiamo un po' E dai che abbiamo finito finalmente Sono sicuro È Il carico completato Adesso Passa Ok Ah devo parcheggiarmi lì Va bene Vamos No ho sbagliato Va bene Fa niente Vamos Sì ragazzi Retromarch Retromarch Vamos Vamos Mi sono agganciato Alla gru Dai Ah Ah mi sono No ma Ah ok Boh Passiamo la gru Ragazzi Tiriamo via Ok Così almeno Se ci tiriamo via Questo Dai Eh Ma Ditemi voi Se mi devo rompere le scatole Alla fine Facciamo così Dai però Ci sono componenti in movimento Caspita De roba qua Vediamo un po' Ok È in movimento Vabbè Sapete che faccio Restituisci Mo Ecco Eh Toria Ce l'abbiamo fatta Ma andiamo nel camion Eh Adesso andiamo lì Ragazzi Dai Ce la restituiamo lì Penso che va bene Oh Vedi Perfetto Abbiamo finito E adesso Scollega la motrizia Abbandona l'aria Perfetto Quindi X Scollega Posizione Mezzo di trasporto Rimuovi Sì va bene Ok Devo solo uscire Quindi vado di qui A destra Abbiamo finito Spero di sì ragazzi Ok Ma che devo fare Libera l'aria Libera l'aria TSS Con Meller Qui Forse Devo Liberiamo l'aria Allora Uno l'ho fatto Adesso Andiamo Qui E da lui Riposiziona Oh la strada È stata riaperta Blah 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 Dai che abbiamo riaperto La strada E vai Ragazzi Un'ora ci ho messo Per farlo Però mi sono beccato Un botto di soldi 73000 Solo di bonus Se vi rendete conto È sbloccato Nuova area Neustain Neustain Ok Perfetto Servirò una sede sul posto Inizio della missione Per affittare Un nuovo edificio Per l'impresa Disponiamo la sede Lavori speciali Ok Lavori speciali Lavori speciali Eccolo qua Sede Ah lavori speciali Ok andiamo Forse ho capito Dobbiamo andare qua Ci compriamo Una nuova sede Neustain Ragazzi Allora Lavori speciali Lavori speciali Espressione Della zona industriale Di Neustain Zero Guida fino Alla nuova sede Ah ok Vabbè dai Vabbè ma questo qua Lo faremo In un prossimo Nel prossimo gameplay Ragazzi Vabbè ragazzi Io mi fermo qua Perché Perché Ragazzi Si sta a fare Veramente tardi Come sempre Se questo video Questa sera Vi sta piacendo Vi dovete mettere un piazza Che ci scriva Come si è fatto Noi come sempre Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Ciao A tutti